bello a tutti i ragazzi vi siete mai chiesti come vedo un daltonico beh io sì e visto che non sono daltonico però sappiamo tutti che non è né una malattia né una cosa grave perché soltanto un difetto del cervello una cosa che non sa fare non è niente di grave io mi sono chiesto ma come vede un daltonico visto che è particolare perché non è che dice è mai cieco chiudi gli occhi e sai che cosa vuol dire sei cieco cosa vuol dire essere daltonico dici non vede quei colori ma in che senso oggi ho trovato questa applicazione che ve la lascio in descrizione se volete che funziona benissimo benissimo per chi non è daltonico sembra che funzioni benissimo però se tra i miei iscritti c'è un daltonico per favore scrivetelo beh però vedete qua qua ci sono i vari tipi di daltonismo questo è quello normale questo questo qua e questo sono uguali questo qua per un altro tipo però quello più mi sa più diffuso è questo questi sono i colori mo se io premo questo il viola e il blu per loro sono più o meno uguali poi il rosso loro lo vedono praticamente c'è loro soltanto il viola più o meno è il blu è per loro c'è per loro è più o meno lilla aspetta allora paesaggi allora tipo questo allora gli occhi di che gli occhi di chi non è daltonico vedrebbe un diciamo i colori normalmente ma chi è daltonico c'è chi è daltonico c'è chi è daltonico guardate il cielo lo vedono lilla però chi ha questo daltonismo vedono il cielo più o meno verde però chi ha questo tipo di daltonismo perché io sto registrando lo schermo del cellulare questo è un'applicazione vedete beh chi ha questo tipo di daltonismo cioè più che altro non vede tutti gli altri colore però il rosso lo vede benissimo cioè vedete tipo questa qua questa immagine bellissima coloratissima anzi ma io me la scarico beh che bellissima ecco questa immagine così è per un daltonico oppure così poi ovviamente ci possono essere vari tipi di daltonismo però così è come vede una persona che non è daltonica così è come vede una persona daltonica oppure così però visto che io comunque devo fare la copertina tra questo è questo però per quanto mi riguarda è più affascinante perché il daltonismo è affascinante no? cioè ditemi quello che volete questo qua secondo me è più affascinante perché è più particolare questo qua beh non dico che è più normale però è più cioè è meno troppo grave diciamo allora ho fatto il corso della miniatura però se chi è daltonico vuole vedere la mia prestazione sto usando la grandangolare perché questa applicazione ti permette pure di cambiare le fotocamere beh se c'è se grandangolare oppure vedete così è con gli occhi di una persona normale vedete è normalissimo tipo queste luci qua della tastiera oppure che ne so queste luci qua oppure che ne so tutti questi quadri eccetera eccetera oppure ma perché daltonico? cioè notate la differenza se volete andate indietro con i video se volete vedere meglio queste sono le luci vedete sono accessi qua ma non si notano vabbè vedete i colori come se fossero sempre gli stessi oppure beh questo telecomando che è quello delle luci colorate eh signori quindi con gabila daltonico è tutto noi ci vediamo ad un prossimo video spero che questo video vi sia stato non dico utile perché comunque è un'applicazione figa che volevo provare però secondo me daltonismo è una cosa particolare affascinante ovviamente ma come vi ho detto prima non è una malattia però è una cosa particolare cioè difficile da spiegare ecco per chi è daltonico ho questa applicazione quindi se volete capire come vedo un daltonico questa è l'applicazione giusta ve la lascio in descrizione ogni lunedì ogni giovedì con un video tutti i giorni in live fatemi sapere quali sono le applicazioni particolari che voi conoscete consigliatemi che ci potrei portare un video quindi ragazzi è stato bello e mi raccomando iscrivetevi che voglio arrivare almeno a 900 iscritti e poi a 1000 ci vediamo